Diamo la parola a Mars. Mars, ti abbiamo aperto il microfono. Buonasera e benvenuto. Salve, buonasera. Non so se è possibile, addirittura permettermi di chiedere una domanda a The Voice, se è possibile. O altrimenti la butto qua e se sente e vuole intervenire bene, se no. La mia domanda è questa. Voi dite di essere per una lotta non violenta, ma nella Costituzione americana c'è il diritto del popolo ad essere armati, perché nell'eventuale situazione che chi ti governa prenda il sopravvento e diventi, come lo sta diventando adesso, cattivello. Il popolo può rimettere al loro posto questi servitori che il popolo stesso ha creato, però qui da noi, in Europa e anche qui in Italia, ovviamente questo è un concetto che è completamente alieno, cioè che il popolo possa difendersi allo stesso livello che si difende il tuo servitore. Scusami Mars, ma c'è un po' di confusione, attenzione. Il diritto dei cittadini americani di possedere delle armi in alcuni stati, non in tutti, ha un altro principio, che non è quello di difendersi da uno stato ritenuto magari così violento verso i propri cittadini. A parte il fatto che c'è una tradizione, una cultura completamente distante dalla nostra europea, perché non mi risulta che negli stati europei in cui viviamo, almeno io vivo in Italia, si sia neanche lontanamente vicini a quel tipo di concetto. Ma qua il tema è un altro, cioè in questo momento ci stanno togliendo il diritto sacrosanto, cioè uomini come noi, in carne e ossa, persone che hanno una vita come noi, che nascono, si ammalano, vivono, invecchiano, muoiono come ognuno di noi, quindi qualcuno che è come noi decide di ricattarci, decide di toglierci dei diritti che sono per nostra natura presenti nel momento in cui nasciamo, ci appartengono, ci appartengono. Il diritto alla vita è un diritto che vale per tutti, la nostra lotta è esattamente questa. Il diritto di dire no a un trattamento sanitario è un qualche cosa che dobbiamo difendere per il semplice motivo che se accettiamo da qualcun altro, infatti non a caso, se tu conosci la storia, tu sai benissimo che quello che è avvenuto negli ultimi due anni, diciamo così dal 42 al 45 ad Auschwitz, e da lì poi quello che ne è conseguito con il processo di Norimberga, e a partire dal 46 si è sancito in modo inequivocabile che le persone, i cittadini, ma diciamo le persone, le persone, noi umani, mai avremmo potuto sopportare ancora degli obblighi sanitari contro la nostra libera volontà. Allora il tema qual è? Qui noi stiamo facendo una lotta non violenta, ma estremamente efficace, perché io ti invito ad esempio ad andare a vedere quella che è stata la battaglia del sale che ha condotto Gandhi, sembra una storia lontana, noiosa, ma in realtà quello che ha fatto Gandhi è stata una guerra pazzesca, e Gandhi era tutt'altro che pacifico, attenzione perché essere non violenti, non violenti ma non per paura, ma proprio per un principio naturale, perché tutti gli esseri umani sono uguali, quindi per questa analogia, perché siamo tutte persone meritevoli di rispetto, di dignità, di un lavoro, di una casa, di una famiglia, non possono subire da altre persone, da altri esseri come noi… Scusa se ti interrompo, stavi dicendo tutte cose giuste, ma lui vuole sapere perché non usiamo le armi, perché non facciamo la guerra con le armi, giusto? No, io penso che lo stato dell'ammosciamento del popolo europeo è tale che non è concepibile, noi non sappiamo almeno cosa sono le armi ormai, però questo è solo per dirvi che da una parte insomma capiamo tutti anche qui nel vostro gruppo che ci stanno per uccidere e dall'altro vi sognate che voi ci possano… possiamo ancora fare questo gioco dei diritti della Costituzione che loro ormai se ne fregano di queste cose? Infatti noi non lo facciamo per niente, infatti diciamo che non è una questione legale, noi facciamo… noi stiamo semplicemente facendo il primo passo di addestramento fondamentale per rispetto al tipo di guerra che stiamo facendo, noi abbiamo prima di tutto una guerra psico-emotiva di fronte, ok? Quindi che a prescindere che tu decidano domani di usare le armi o meno è comunque un passo che dovresti fare, cioè la prima cosa per combattere è avere la mentalità del guerriero, ci sei? Che poi usi le parole, che poi usi la forchetta, che poi usi se hai la mentalità del guerriero se già in un'ottica di un certo tipo. Ora, loro non stanno usando le armi, quindi tu non puoi usare le armi, ok? Perché loro vogliono… Non so, bisogna andare a casa senza lavorare, senza respirare, insomma, fatte belle cose. Lo so, lo so, lo so, certo, ma noi infatti non possiamo fare la guerra legale, noi però dobbiamo ottenere una guerra psicologica. E perché secondo te le persone stanno accettando questo? Perché pensano che sia giusto, pensano che vada bene, pensano che convenga, pensano, pensano, capisci, pensano che è una serie di cose sbagliate. Come diceva giustamente prima il ragazzo di prima, che non sbagliava i beni, le persone devono imparare che ci sono delle cose che possono decidere di non fare. Non basta solo quello, ci vogliono tanti altri messaggi che devono imparare e devono unirsi per poter riuscire a disubbidire. Devono imparare ad appoggiarsi, devono imparare a riconoscersi, devono imparare a disubbidire allo Stato e non alla norma, perché la norma di per sé stessa non compra un passo. Cioè, ci sono tantissimi passi per diventare un esercito civile. Allora, giudici di questo momento ci stanno facendo il culo, certo. Ci stanno facendo il culo perché gli unici che lottano con un minimo di decenza siamo noi, ma siamo quattro gatti in proporzione a quello che dobbiamo diventare. Domandati però come mai quattro gatti non riescono a farsi sentire come se fossero migliaia. Tanto che loro pensano che noi siamo ventimila, capisci? Non siamo ventimila, siamo poche centinaia di guadieri. E pure siamo senti sui giornali. Perché riusciamo a farli iscrivere anche oggi? Come a vedere sul canale hanno scritto, i vaccini uccidono. Hanno fatto vedere tutte le nostre immagini dove ce ne era di tutti i colori, scritto di tutti i colori. Ancora stanno dovuto scrivere. L'avventura hanno scritto gruppo Novax vivi, esattamente come lo scriviamo noi con le lettere minuscole. Cioè sanno chi siamo. Devono darci dei deliranti. E parliamo di diritti che lo scrivono tutti. Cioè noi stiamo insegnando un sistema di lotta. Ovvio che finché siamo in pochi, per quanto più possa essere bravo, cioè neanche i sins possono vincere la guerra da soli, capisci? Cioè ci vuole un milio di supporto numerico, l'abbiamo sempre detto. Ma è la tecnica che devi iniziare a individuare come corretta. E poi tu devi dire a te stesso, ma se questa fosse moltiplicata, se la loro tecnica fosse moltiplicata per il numero dove andiamo a seguire, allora vi si riesce a capire tante piccole cose. Vi si riesce a comprendere il tipo di impatto che possiamo arrivare ad avere. Purtroppo non è una guerra che possiamo fare con le armi, perché non c'è cultura delle armi nel nostro paese. Secondo perché la violenza porterebbe violenza e quello che è più comodo per loro, perché a quel punto cade qualsiasi barriera, capisci? E poi perché spareremo a chi? Ai nostri fratelli delle forze dell'ordine? No, assolutamente. Se non si sa sicura questa la tua domanda, ma... No, l'ideale sarebbe ovviamente usare la ragione, però capendo insomma la natura del mostro che ci controlla... Non possiamo usare la ragione, dobbiamo usare l'emotività, dobbiamo creare un movimento psico-emotivo. Perché se tu ci parli, quelle persone non capiscono mica. Non dici che la gente non capisce, chi capisce e capisce. Noi dobbiamo imporci a livello emotivo, per questo il nostro linguaggio non ha filtri. Non è una discussione. Il governo mente... Sono nazisti, non c'è discussione. Questa genera però rabbia in coloro che pensano che sia giusto, generano emotività, no? Guarda come li facciamo incazzare quando mettiamo le nostre scritte. Li mandiamo fuori di testa. Dicono delle robe che stanno solo dal mondo, perché i sindacati, il baluardo della democrazia, dicono delle robe che sono assurde. Più le dicono, più si sputtanano. Dobbiamo costruire un riferimento psico-emotivo. E lo possiamo fare solo tutti insieme. Sì, sì, no. Si può creare. Sinceramente, io assolutamente... Non è che questo è un attacco, per esempio, a voi, no? No, no, no. È semplicemente lo stato dell'uomo oggi, diciamo, dal 2020 che ci è successo questa cosa ad oggi. Il massimo che è riuscito a creare nel popolo come contrasto a questa cosa, effettivamente siete solo voi e singoli individui che singolarmente hanno fatto qualcosa, hanno fatto i duri. Però, ovviamente, con una macchina non puoi combattere singolarmente, ovviamente. Con questa ci troviamo contro una macchina. Dobbiamo anche noi stessi creare una macchina. Come siete voi, per esempio, questo gruppo è una macchina, diciamo. Però il problema è che molta gente non è abituata all'ordine, a capire che è un individuo in questa macchina e quindi abbassare un po' l'ego e cercare in questo modo, con la nostra macchina, di combattere quest'altro. Sì, esatto. Perché poi il paradosso è che qui, in realtà, moltissimi vanno proprio per individualità. Cioè, in realtà, noi diamo delle indicazioni che nel tempo si riducono. Perché man mano quei guerrieri imparano a lottare, diventano in realtà tutti individui che lottano. Perché lo scopo poi è quello. E lo scopo non è che seguono i nostri ordini. Perché non ci sono ordini, ci sono insegnamenti. Quindi io ti do un insegnamento, ti insegno ad applicare quella cosa, poi vai e fai. In questo modo generi un problema, perché se no, basterebbe un domani togliere la fonte degli ordini e hanno risolvito. Invece noi gli stiamo creando un problema irrisolvibile. Perché se tantissime persone iniziano a lottare, tu sei completamente nella merda. Pensa anche alle cellule terroristiche. Quando si organizzano, uno dei problemi che hanno sempre avuto è che non avevano il cervello per pensare alle emissioni per conto proprio. E quindi tagliata la testa, l'intesa, teneva. Pronto? Pronto? Senti? Sì, ti sentiamo voi. Noi ti sentiamo. Ah, scusate, no, pensavo che ero io. Le cellule hanno smesso di lavorare, non erano più finanziate, non erano più gestibili. Invece noi stiamo costruendo una cosa che parte dall'individuo proprio. Ma poi è ovvio che non è che puoi arrivare e pensare di poter fare immediatamente da solo. Perché devi prima entrare nel gruppo. Sentire tutto, che poi non è un gruppo, perché abbiamo un gruppo, proprio per dire tante persone insieme, ma non è un vero gruppo. Entrare dentro questa forza, accorbire tutto quello che c'è, poi a un certo punto ti viene voglia di andare a fare le cose. Penso che le azioni che sono venute stanotte, che hanno fatto ad Ancuna, noi non ne sapevamo nulla. Nella misura, nulla, zero, assoluto zero. Eppure, guarda che bella azione che è stata fatta, è fantastica, ci hanno fatto un lavoro. Domani possiamo coprire ovunque, in tanti altri modi, ma non ne insegneremo. Adesso ne stiamo insegnando, ma ci vuole lo spirito. Prima bisogna insegnare il coraggio, lo spirito, la possibilità. L'idea di disobbedire allo Stato e non alla norma. L'idea di avere un insieme di persone che vogliono la stessa cosa, senza per questo doversi catalogare in un qualche modo. E' qui che nasce il principio di forza, la forza, non un partito, non un gruppo, non un movimento, ma una forza. Perché nasce dal desiderio di fare. Cioè, voglio fare, voglio lottare, voglio... Se non hai questa psicologia, te e tu. Devi avere tutta la tecnica che vuoi, ma non vai da nessuna parte. Allo stesso tempo, se hai questa cosa qui, ma non sei unito, non vai da nessuna parte. Cioè, ci devono essere tutto un insieme di cose. Devi avere tu questa forza, questa capacità, ma anche il fatto di dire che mi porti con me gli altri. Non sono io che faccio. Cioè, non direi di tutta... Il guerriero deve accettare che la sua azione è di tutti i guerrieri. Non è la nostra, capisci? Non è la tua, non è... è di tutti. Cioè, tu potresti fare una cosa meravigliosa, ma non deve essere tua. Ma il messaggio nel farla deve essere quello. Tanto è vero perché, diciamo, non personalizzate troppo. Non potete personalizzare il messaggio. Infatti, chi siamo? Caos. Dovete stare all'interno, quando ognuno ogni tanto fa qualcosa di proprio, perché non c'è niente di male. Però manda messaggi in un fuoco e all'interno ci mette magari la propria ficca, la propria cosa. Ma al servizio degli altri, prima. Cioè, mettendo prima i messaggi che mettono tutti. I singoli, i singoli. Allora questo trasmette un'idea diversa. Non è che fanno finta di non sapere chi cazzo siamo. Non so se voi seguite e andaste a vedere il canale, gli gesti giornali. I fami cercano di far finta di non sapere chi siamo. Forse è di matrice Novax. Ma c'è, sei un giornalista, c'è l'archivio pieno di nostra foto. Lo sai benissimo, grandissima testa di cazzo. Chi siamo Novax. Ma cercano di... Cioè, sono anche ridicoli. Mandano dei messaggi chiari. È quello che stiamo facendo. Gli stanno creando un sacco di problemi. Proprio perché nel loro modo di dissimulare, di cercare di gestire questa cosa, non sanno dove sbattere la testa. Perché ne devono parlare, ma non ne dovrebbero parlare. Ultimissima cosa. Secondo te è concepibile, diciamo, nell'eventualità, diciamo, che le cose andassero sempre peggio? Diciamo che non si possa più ragionare, non si possa più nemmeno operare dai controlli o dalle forze dell'ordine che non ti fanno più nemmeno scrivere, eccetera, eccetera. Perché magari ti mettono in galera o che sono un po' più duri, no? E quindi a quel punto, diciamo, tutta questa cosa non violenta è concepibile, nel senso... Io dico, perché alla fine non è che... tutto dipende dal popolo, diciamo, però nel vostro gruppo è concepita, diciamo, un altro tipo di contrasto a questa cosa che... Vedi, noi non siamo pacifici, noi siamo non violenti e questo non cambierà mai. Perché dal momento che non hai i mezzi per essere violenti e l'essere violenti comunque dà un vantaggio al conversario, in questa guerra... No, io proprio quando si parla di violenza è semplicemente per difendere te stesso, no? Non per attaccare... Ci sono delle tecniche non violente, di difesa, certo, ma ci sarà... E' ovvio che se noi riusciamo a costruire un esercito non violento, civile, ma nel violento riusciamo ad applicarle. Se tu non avrai l'esercito, non le potrai applicare. E' ovvio, questo è... Però ci sono, capisci? Basta solo studiarle. Noi siamo già cercando di prepararle, abbiamo già qualche volta preparato meglio di fare in un certo modo, ad aggiornare in un certo modo. Prima ci vuole la testa, però. Prima la testa, per diventare... Perché se tu hai l'attacco di panico, tu capisci che... Tutto va... Sì, no, alla fine è quella... La paura mia che... Sì. Ma vedi, noi cosa vogliamo? Noi vogliamo costruire poche persone molto capaci che vadano sul territorio, ma rappresentate da una forza simbolica a casa di milioni di persone. E tutto allora cambierebbe tutto. Perché tu non hai bisogno di portare un milione di persone in piazza, che tra l'altro è una fatica logistica immensa, che non sanno come muoversi, cioè come vai a controllare un milione di persone. Se tu invece hai un milione di persone, ma questo milione di persone sono dei guerrieri, che portano un simbolo che è così, allora tu ti mandi un messaggio che ti mandi. Sono rappresentanti di milioni di persone, perché ce l'hanno sulle macchine, sulle finestre, si deve alzare inizio, adesso c'è un valore diverso in queste mille persone, sei d'accordo? Se tu immagina di avere una persona con il simbolo e di averla senza, se tu hai il simbolo tu sai già che dentro ci sono un sacco di persone, se poi addirittura l'hai visto ovunque, adesso se tu vai in giro con il nostro simbolo, c'è gente che magari ci si arrabbia, diciamo, ma voi siete quelli che già, senza di prostituire, c'è un cazzo, cioè stai già rappresentando, stai già dicendo, stai già lottando, semplicemente perché porti la maglietta e lo segno, allo stesso tempo anche in termini di unione, ci sono quelli che vengono da te, che ti danno la mano, dicono che sono d'accordo con voi, continuate così, vattici via. E questo è solo la maglietta. Che potere ha questa cosa? Dice, ha un potere immenso. Allora, ecco che improvvisamente, addestrare mille persone non è addestrare un migliore, però ti porti dietro il mio, ed è più facile quello. E se tu sappi che quelle mille persone hanno in tutte le città altre decine di persone pronte a scatenare un inferno non violento, ma un inferno di subvenienza che può bloccare tutti e tutti, allora devi fargli conto, eh? Ci devi fare conto. Cosa fai? Inizia a sparare? Cosa della gente non violenta? Perché quando poi usiamo le tecniche, saremo le tecniche di territorio, cosa fai? E se mi poter ci portare via come saranno, hanno fatto in Canada quel cazzo che, 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 che si muoveci, hanno fatto in Canada. Allora noi saremo sul territorio, saranno cazzi loro. Tevano venire con le rusche a tirarci su. Dico perché non useremo le tecniche, le non tecniche, che hanno già più in Canada, o che hanno già più in tanti altri costi. Altro che i gradi, che dovevano dire, che usare, che sbocchi. Dici, perché loro non hanno idea di quello che ci danno in testa. Eh, ma noi sì. Perché noi non conosciamo quello che possono fare loro. Loro non sanno quello che possiamo fare noi. Esattamente come non ci aspettavano di, 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 di arrivare ad avere tutto questo. Sono tante cose che si possono fare, ma che la gente non vede, di bici. Come il cartello. Se loro pensavano di poterli fermare, la fissione, di poter fare l'ascensore che noi, no, ha fatto vedere che si si ferma. Basta avere fantasia e testa, e passi dovunque. Quindi, di testa non fanno dare le abitanti, che operano. Noi abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di out of box, abbiamo bisogno di gente come i coglioni, che vogliano fare, dei guerrieri, capite? Non possiamo farcela da soli. Non ce la possiamo fare da soli, capite? Noi abbiamo bisogno di costruire un peso per cui la compra informazione, per l'accedere al fatto di parlare di noi. Non ce la possiamo fare da soli. Noi abbiamo fatto i miracoli già così. Capisco. Pronto? Pronto, signora. Ah, ok, no, è finito. Pensavo che si era staccato la linea a posto. Ok, non è stato chiaro. Grazie. Capisco che le mie pause possono sembrare per questo caso. Ah, ok. Era voluto. In questo caso. In questo caso. Ok, io, per chiudere, spero, insomma, dentro di me, io temo, insomma, che questa gente non si fermerà, proprio, noi siamo completamente... Guarda, perché noi l'abbiamo detto sempre che non si sarebbero mai fermati. L'abbiamo detto a maggio i miei eventi. Allora, molti dicono, non abbiamo nessuna possibilità di vincere. D'accordo? Va bene. Mettiamo che non abbiamo nessuna possibilità di vincere. D'accordo? nel senso che tu pensando alla realtà come è adesso tu decidi che così come è adesso noi non abbiamo possibilità di vincere ma se noi creiamo qualcosa che non è mai stato creato rimane la realtà di adesso o inizia a cambiare? ecco che allora ci dobbiamo dare quella possibilità e potremo sapere che effetto fa quella possibilità solo sulla realizzazione perché se decidiamo già di essere sconfitti tutti sono sconfitti sì però non vuol dire la storia insegna che non è così tu vatti a leggere la storia di Gengisca se lui ragionava come di uno che non doveva più rimaneva dentro la precedenza cinesa io mi immagino il sistema ha tipo ma tu pensa a Nelson Mandela che è rimasto in galera 27 anni o almeno così si era chiamato così no no che cazzo no è stato in galera 27 anni che poi fu sei di un certo tipo sì va bene però ha fatto anche il carcere tosto cioè non era mica l'inizio non era mica il carcere mobile dopo pian pianino continuando a lottare a nessun tipo non era mai nullato cioè anche perché tu credi che il carcere è anche relativamente morbido per 27 anni sia sottortabile no io penso che la gente che controlla questo mondo l'ha controllata da migliaia di anni e gestisce gli eventi come piace a loro quindi tutto quello che noi vediamo è e qua ti sbagli lo sai perché ti sbagli? ti sbagli perché se no non dovrebbero generare questo evento questa è la prova del fatto che non possono e non hanno mai potuto fare tutto quel cazzo che gli pare per questo stanno generando questo evento per riuscire ad arrivarci se tu non hai fatto il cazzo che ti pare ad arrivarci cioè loro loro stanno generando questo evento perché nella storia sono riusciti solo a fare certe cose non hanno potuto fare tutto tante volte gli uomini si sono ribellati e li hanno ribaltati li hanno andati a pagare mi sono riuscito a superarlo non sono riuscito a fare tutto se tu riesci a fare tutto vai avanti così non è che ti metti a inventarti un piano come questo che è uno sforzo grossissimo per riuscire ad avere tutto ce l'hai già non lo fai uno non va a costruire qualcosa per ottenere se ce l'ha già non lo fai no io penso in questo momento loro devono semplicemente toglierci di mezzo perché hanno la tecnologia ormai per mandare avanti questa sì ma perché non lo potevano fare prima sì ma perché non lo potevano fare prima capisci anche adesso l'onore è una guerra anche anche adesso l'onore è una guerra non è una cosa liscia capisci non è una cosa liscia cioè loro non vanno lisci non è che sono sicuri perché per questo l'abbiamo messo in campo delle IA che calcolano continuamente le mosse per le scene di per i loro piano sì loro c'erano la gente c'erano la tecnologia di soldi hanno tutto ma non sono sicuri di un cazzo loro non sono sicuri di un cazzo altrimenti non fai propaganda cioè se tu sei sicuro tu non avrai bisogno di fare un cazzo però pensate perché loro si hanno potuto non confondere la capacità e la potenzialità con l'assoluto potere sono due cose diverse penso che loro diciamo la propaganda la difendono comunque con la violenza che noi purtroppo non abbiamo quindi possiamo fare la propaganda che vogliamo ma se non è la violenza la gente non ti ascolta ma noi la violenza tra virgolette ce la buttiamo quando chiediamo a imbrattare un muro e violiamo una regola dello Stato quindi anche se non è violenza di fatto l'imbrattamento è un reato quindi è una forma di prevaricazione quindi di fatto un minimo tra virgolette a livello intellettuale di violenza lo applichiamo e dunque quella violettica per le regole è una tua discorsa però è un atto di quindi non è vero che penso se tutte le persone che non sono d'accordo con il vaccino facessero imbrattarsi perché in caso non ci viene se avremmo il territorio per farci sentire diventerebbe un diritto spaventoso cioè tu prova a immaginare prendi le persone che sono andate in piazza prendi le un decimo e farli stare in un anno soddisfatto come facciamo in tutte le scuole in un anno non l'immagino nemmeno perché so che la gente non farebbe mai una cosa del genere quindi per quello sono anche un po' così negativo su sta cosa perché su va bene va bene può sembrarti difficile ma perché pensi che non lo farebbe mai non lo farebbe mai perché c'è gente come te che non spinge a farlo perché tu hai già deciso che prendiamo capito cioè tu puoi dire la stessa cosa che scrivi no no assolutamente perdiamo se questo è il tipo di lotta che pensiamo di fare secondo me se ti ricordo neanch'io sarei con un tale pane che sono pronto lì con il calascio quello è un passo che dici non si dire in morale non è la lotta è un passo esatto noi siamo dei bambini che piano piano dobbiamo imparare prima a mangiare cose un po' più semplici poi piano piano magari mangiare cose più complesse ma noi abbiamo dei guerrieri che sono padri e madri di famiglia che sono imparati a diventare dei ninja che ci fanno delle procure delle costure che li fanno dando la caccia e non sanno chi cazze sono come sono fatti eccetera hanno indizi vaghi sono ombre hanno imparato a diventare ci raccontano che fanno delle robe da chiodo e non li beccano capisci ti stanno facendo un culo quanto una capalla e hanno il culo della gente speriamo altri insegnando alla gente a lottare stiamo insegnando alla gente a lottare ma ci vuole uno come te che dica facciamolo fatelo lo faccio anch'io facciamo mettiamo insieme perché tu non lo fai hai già deciso di perdere hai perso capisci non fa bene se hai già deciso di perdere allora non fai un cazzo e poi ovvio che vinci più forte fate il vantaggio c'è i mezzi se le persone di buona volontà che capiscono non lottano fino all'ultimo di questo ti vuoi vaccinare tu? ovviamente no fino alla morte non penso proprio che perfetto allora tanto vale che fai fino alla morte allora tanto vale che fai fino alla morte non togli più sì sì no l'unica cosa sì io sarei per una cosa ragionevole all'inizio prima di passare per esempio la cosa più violenta ma non è nemmeno concebile una cosa violenta perché il popolo non concepisce la cosa violenta cioè risponde allo schiaffo del sistema con un altro schiaffo ma noi siamo ragionevolissimi ma noi siamo ragionevolissimi perché noi noi applichiamo la disobbedienza civile l'imbrattamento è la disobbedienza allo Stato ad una norma dallo Stato è disobbedienza civile è come quando Gandhi è andato a fare il sale non c'è mica nessuna differenza cioè il sale non è che di per se stesso costituiva non è che avevano messo la tassa sul sale era sempre lo stesso però lui ha fatto vedere che andando a fare il sale disconosceva il potere inglese noi imbrattando e occupando il territorio come ci pare disconoscevano lo Stato stessa tecnica la tecnica che insegna le persone ad avere a prendere coscienza di se stessi come ruolo di disobbediente civile che generano una lezione gli indiani si sono liberati alla fine degli inglesi però comunque non è che è diventato sto popolo liberissimo questo scusa non è che nella evoluzione umana non è che tu lo chieni qualcosa e ti fermi lì è successo ogni volta tu lo chieni poi si sberta poi lo chieni poi si sberta poi c'è un processo normale però tu non devi guardare a quello tu devi guardare al fatto che comunque gli inglesi si sono toccati da cazzo beh finisci perché poi non fosse rimasti dentro per le farge ma questa è una normale signora a Gandhi non gli fregava mica di allontanarli in senso assoluto non voleva neanche se allontanassero la parte araba perché lui comunque li considerava dei fratelli cioè anche gli inglesi li considerava dei fratelli del suo animo aperto però lui diceva non potete decidere voi cazzo lasciate a casa vostra direte a parlare quello l'ha ottenuto noi qui non è che vogliamo ottenere il mondo noi vogliamo dire volete fare la depopolazione volete dare una regolata finissima lo si fa nel rispetto dei diritti e delle libertà non con la prevaricazione volete che ci diamo una regolata con le nascite dove sanno improprie perfetto lo si fa nel rispetto dei diritti e libertà e democraticamente cercando di creare cultura invece loro non vogliono questo perché il loro scopo è il dominio è il loro controllo quindi c'è la fede nei loro tentativi e quello può disforzerti ma se tu sei pronto a dire non mi vaccinerò fino alla morte allora sei già cazzalota tanto vale che ci trovi ti voglio a lottare con noi il settacolo lo fai lo stesso però lo fai non solo come? aspettando che ti vengono a prendere? ma anticipiamole lo fanno con noi diamoci una cazzo di possibilità insieme cioè non è una roba difficile da capire no l'unica cosa mia è semplicemente se loro hanno oltrepassato queste regole che ci siamo messi con le leggi le cose la costituzione cioè quindi se loro di questo pezzo di carta non viene frega niente nel 2020 cosa mi fa pensare che da adesso in poi loro possano mai dato che ormai è un dato di fatto ormai che non la rispettano che ci considerano come carne da macello e possono fare di noi quello che vogliono a seconda dei numeri che si inventano loro a quel punto io dico ma questi non hanno bella intenzione quindi non me la sento di notare diciamo tra virgolette perché proprio non non riesco a capire che dall'altra parte non c'è qualcuno che vuole ragionare diciamo il sistema si vabbè ma allora ok allora voglio dire che li aspetterai quando ti vengono prendere basta ma se nessun altro si vuole si vuole unire diciamo a fare qualcosa di più concreto ovviamente quando darà il mio momento cercherò di lo fare noi ci siamo già noi ci siamo già ma si parte sempre dal piccolo per poi arrivare a grande non è che improvvisamente ti schiocchi le ditte cioè immediatamente c'è che ti credi che con tutta la rivoluzione sono partiti da piccolo ghani non lo conosceva nessuno all'inizio quando ha seggevato l'india per te conoscerà non ce lo paghava nessuno cioè è partito da piccolo anche lui però sono più subbi quelli che ci sono metti subito a lui o quelli che ci hanno messo vent'anni per capire che si dovevano unire e poi anche lui ci ha messo anni per insegnare per dicevo eccetera e descrivere la potenza inglese non è mai semplice di tanto cazzo te puoi continuare bravi e capaci loro però rimane il fatto che se tu vuoi non vaccinati tu lo puoi dovrai lottare lotta da perdente e toggetti la possibilità di lottare da vincente se tu fa questo fa questo però sei assoluto finisce c'è l'insapevole che sono sì che la tua non è logica la tua è una forma di perversione autodistruttiva d'accordo? scusa ma adesso lasciamo spazio ti ringrazio ciao ok grazie ciao ciao aggiungo solo una piccola cosa voice a Mars riprendendo le tue parole e uso le parole di Lao Tse che sono come nel piccolo così nel grande perché quello di cui ha veramente timore il sistema è il fatto che noi manifestiamo dei principi dei principi in modo tangibile perché noi le cose le diciamo ed è la cosa più temuta ed è per questo Mars che ci mettono tempo zero a cancellare se tu guardi sul canale principale tutte le pubblicazioni che facciamo rispetto alle azioni sia sul territorio che sul web quindi ovunque se tu noti vedrai che le cose che cancellano le scritte che sono una manifestazione dei principi di libertà e sono la cosa più temuta ed esattamente quello che loro non riuscendo ad imbrigliarlo in un pensiero unico è quello che più temono e la nostra forza di lotta ha questa capacità di essere imprevedibile e di non essere come dire ingabbiabile no Mars se ci pensi è esattamente questo ma perché nasciamo in realtà dalla volontà di tantissima gente di voler essere libera quindi c'è tanta grinta c'è tanta energia c'è tutto questo perché sono sempre